... Chi è che respira così? Ma... Blair Witch! Oh davvero? Alla piano! Dove sei? Sono nel culo delle aeree, dove sei? Io sono... Sto caccato bellissimo Fai i grafici Vieni qui Quanto sei brutto Eh che ti sei bruttissima Vieni il colpito Miche è già notta, non ripiace F Miche è già notte? Così? Sono morto? Ma cosa mi ha ucciso? Vai! Se guarda il cartello ti dà le indicazioni Ma le senti le voci? Oh no, sento un lupo Tu sei qui Ma qui c'è il treno Ricordi che se il tempo arriva a zero muori eh Eh... Vuoi? Una fetta di uno? Ecco lì, ecco lì, vai, vai, una baita Entra Sì, esatto Ciao disperato, buonasera, esatto Siamo lì Un cuscino, cos'è? Oh che troia! Le corvi maledette Guarda le parti della macchina Perché ti sembra le parti della macchina Che scappa Sì sì E' quello? E' quello? E' quello? E' quello? E' quello morto! E' quello morto! E' inattorto! Ma che cazzo fai? Ma che gioco del cazzo è? Si sono calati degli acidi potenti Per vedere stavola E' passato E' passato Io non ci sento più Non ci sento più Vabbè Non ci sento più De giornate è morta no non sono morta sto soltanto dormendo tutta la troia sono morto perché ti hai fatto la scorreggia dai che palle tra l'altro ringrazio ryuzenka che me l'ha regalato grazie per farmi venire i cagotti grazie sentiamo i suoni disincati non parlare no 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 non ridere accedere la luce a quiet place porca di quella erbo di merda t'ha preso il mostro ha fatto un urlo ho vissuto il cielo e si è cagato male dio cristo dio brutto ma c'è non ha senso ma cosa cazzo devo fa di un cristo oddio mi sento mai oi 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 porca troia mamma mia è tutto balgato ma per me è bellissimo quando senti così non parlare ciao davide buonasera questo dovrebbe essere simile no che qui non si deve parlare non se ne fa casino anche qui non si deve parlare non si deve fare casino deve andare in esplorazione e se parli troppo forte nemico ti c'è il mostro ti viene a cercare e t'attacca t'ammazza ok vediamo com'è ragazzi perché questo è una demo è quello gioco completo questa è una demo senti che musica prende il mostro così io sei il genere musicale che piace a steve cioè ma scusa c'è la mente di Mario a k47 fucile a pompa io voglio sperare che sto gioco me li faccia a portare dietro se ce l'ho tra l'altro con il doppio caricatore quindi ma perchè c'è una foto di Lenin? ho trovato il coltello ma vediamo cosa serve come lo tiene? ma perchè puoi spalmare il burro? ma come cazzo lo tiene? ma diamo una cosa per le ricche attento attento che fai casino eh camminando perchè si chiama? c'è un po' lungo bufuccio no il nick c'è no vabbè è orribile questo nostro ma cos'è? ah thank you for playing ora c'è lo disinstalla cos'è? si disinstalla da solo? ho tutti due ehi guarda lì ehi quasi eh te li pulo tutte vai ce l'avete mai avuto l'amico coglione da piccini? tutti avevamo un tiro al bersaglio in casa io ce l'avevo le freccette che mentre andavate a toglierle il coglione tirava ce l'avete mai avuto? eh io prima del cappuccino ci puoi giocare a vedere? cioè ci divertiamo più no ma con le mani no? con le mani si tira dai 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 nooo no c'è nemmeno così? ma la bianca? la bianca è da te faccio riuscire aspetta ma dai ma vaffanculo no 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 po ma po ma ma i mi sembra non mi venzi ma che cazzo è ma che l'ha fatto aspetti che cazzo hai cos'è non lo so è un'offerta alla madonna non lo so cos'è ci cai e lo porti in chiesa il cartello non ho paura di usarlo guarda giù tanto deve andare verso il mio corpo ma che cazzo è lì lui ma che ne sai è lì ma che ne sai c'è le orecchie adesso usare bene guarda come tiene la chiave hai visto con le dittina tipo quando prendi lo stronzoletto in terra perchè tu prendi lo stronzoletto in terra così scusami quando porti il cane a cagare lo prendi così no? è così con le due dittina così qua come prendi il coltello no non lo so devi costruire una scala dimmi te gente con la K47 che devi costruire una scala scusami quante cazzo di S vuole la lunga che scala è vabbè giustamente la parte lunga è le deve salire basta quante ne vuoi? che cazzo vuol dire? basta prova a pigiare la morsa usa la morsa con la E niente cosa dice? grande ha fatto benissimo dove devo andarti? so questo coso ecco la parte più bella del gioco ha 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 activa e attivate ecco la parte più bella la parte più bella